Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Ah, non lo so Aspetta, fermi un attimo Cioè, è proprio uscito, ragazzi, davvero No Valerio Parlando di ragazze, lo sapete che venerdì il rosso ha un appuntamento Sabato Mia moglie, la bionda C'è il numero 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 Ti vedi tutti i marcherini Ti vedi io tutti Rosso, ma cosa hai fatto? Cosa hai fatto, Rosso? Cosa hai fatto, Rosso? Ciao Attenta, ascolta, saluta agli amici di Webbo Ciao amici di Webbo Alessi finisce di Webbo Alessi sei di Webbo Ciao amici Io volevo fare solo il cameraman Scusate se sono tipo del gatto Scusa, dobbiamo William non è più nostro amico ormai da un anno Quando sei fidanzato Ma dille invece Ma dille Ma dille Ma dille non la puoi insultare perché è troppo simpatica Ed è troppo brava e mi sa troppo simpatica Ragazzi ci penso io Vi chiedo completamente scusa per la like che avete visto oggi Chiediamo scusa per tutto quello che l'hanno visto Ragazzi scusate davvero per tutto quello che avete visto Che funzione Quanti mi chiedono � O marchandli Ho problema Stampa leson Acco? Lo arredass 하 L shutting Stampa a bordo Ok Ho finale Errora indo Errora , il Raume Dove è? Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì diììììììììììììììììì... Arriva quindi se vedrete una nuova versione live è lei A SIA BUSCIANTELLA Volevamo tenere il top secret ma non si può Voglio 500 mila euro Ma non ti voglio mia mamma qua Non sono stato io Non sono stato io Poveraccia A me mi invita solo alle live di Merida A me mi invita solo alle Un po' più dolce Luigi dov'è? Luigi dorme Oh what up Oh Luigi Bratino 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 È andata a prendere da bere Mi sta scopando un altro Coglione Una domanda per la chat Lo prendo Petagna Petagna lo prendo Buon lavoro Raga Petagna non sembra me manco col carrozzino Bratino 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 È gravissimo le parti Rosso È gravissimo Rosso È gravissimo Abbiamo la clip anche questa volta La mia cazza di finanziaria Un po' del gatto Porca puttana Me ne frega un cazzo da butto Un po' del gatto No No Un po' del gatto No Un po' del gatto Dove c'è Spider-Man! Madonna ma che culo! Guarda che culo! Guarda il quadro! Stai incontrando le tette ad Anna! Che vergogna! Misericordia! Sta girando una fake news Che cazzo fai questa di merda? Sta girando una fake news! Chi è? Alexi non si è scopato Ramsky Che assomiglia tanto all'altra persona Solo i capelli Ciao! Matto sei fidanzato! Sei fidanzato! È una domanda? No! Oh io non voglio nessuno Non voglio nessuno Solo la mia parte di Donna Solo la mia parte di Donna Non voglio nessuno Prendi l'incorso e corri Perché? C'è altra stanza di là? Ma Fredi No fidati! Vai vai! Ma se lo spacco? Se non funziona non si può andare No! 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 Ciò scoperto! ! No! No! Ma dove è andata l'altra gente? Ma dove è la gente? Dove sono andati gli altri? Sono andati a fare quello che non hai fatto